Beh, sicuramente di positivo c'è che abbiamo fatto questi quattro giorni di allenamento tutti assieme voglio dire, siamo ritornati nella formazione che dovevamo essere inizio a campionato avendo Wess in più, perciò voglio dire, abbiamo lavorato bene, adesso si tratta solamente di metterlo in più ma io spero che quando noi essendo in questa situazione un po' la nostra intensità difensiva anche perché abbiamo più giocatori possa essere più elevata, quello che spero e credo poi voglio dire, parlo per me e non parlo per loro, loro sicuramente è una squadra che potenzialmente ha tanti giocatori che vanno a canestro però è il momento solo di guardare a noi, è il momento di mettere quello che abbiamo e forse anche qualcosa in più Tipo una difesa da nazionale? Beh, una difesa, è logico che va molto sulle caratteristiche individuali ma penso che anche i giocatori che non è la loro principale caratteristica possano fare meglio Brescia ha appena cambiato allenatore, questo comporterà di sicuro una gara orgogliosa, succede quasi sempre così Sì, ma anche noi dobbiamo fare una gara orgogliosa, non dobbiamo guardare quello che succede dagli altri ognuno ha i suoi problemi, noi abbiamo i nostri, loro non il loro perciò non sto a guardare gli altri, mi interessa molto più i miei Brescia, anche se non guardi gli altri, te lo chiedo, non è solo Crawford ma è un giocatore che conosci molto molto bene Beh, sicuramente è un giocatore che ha fatto molto bene da noi, poi è andato a giocare un po' fuori in Europa poi è tornato a Milano, un gran giocatore ma la sua qualità che è una grandissima persona questo è quello che mi è rimasto Ti chiedo un'ultima cosa, come hai detto troverai Crawford, insomma troverai anche un altro giocatore che conosci abbastanza bene, che porta il tuo stesso cognome, che tipo di incrocio sarà con Brian? Bene, non è la prima volta, ci siamo incontrati già diverse volte con diverse squadre perciò non... la prima volta è stata sicuramente una cosa particolare però cerchiamo di comportarci da professionisti sia dalla mia parte che dalla sua parte è logico che ognuno cercherà di vincere sarà contenta sicuramente mia moglie perché almeno uno dei due sacchetti porta a casa la partita Grazie 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 Grazie